salve a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati qui nel mio canale io sono cricks oggi ragazzi sono qui dove come avete detto dal titolo sono qui per fare un tutorial ragazzi spiegato passo per passo dove vi mostrerò come fare il glitch di duplicazione massiva che si fa con il criminal enterprise starter pack quindi spero ragazzi possiate apprezzare per gli ignoranti semplicemente duplicazione massiva vuol dire che una volta che voi avrete fatto un primo step potrete continuare a duplicare partendo direttamente dalla seconda parte del glitch se così possiamo dire pertanto potrete appunto continuare a fare delle duplicazioni senza necessariamente appunto riavviare il glitch da capo quindi duplicazione massiva significa fare un primo step ok e una volta aver fatto il primo step potrete continuare a duplicare partendo direttamente dalla seconda parte del glitch che vi mostrerò appunto in questo video quindi spero ragazzi che possiate apprezzare fatemi sapere con un mi piace un commento qua sotto se vorrete vedere altri glitch in live spiegati magari in questo modo magari delle spiegazioni passo per passo dove vi dico cosa fare e cosa non fare mi farebbe molto piacere quindi mi raccomando fatemi vedere tutto il vostro supporto oggi ragazzi quindi vi mostrerò questo glitch per fare duplicazioni massive tutti i requisiti ragazzi li troverete nella descrizione vi ricordo anche di avere le bottiglie di birra ragazzi le potete trovare andando nel menu interazione poi andando su inventario snack e appunto qui su pisswasser dovrete avere il massimo delle birre ovvero 10 se non sapete come si comprano semplicemente andate dal ceo oppure da un qualsiasi negozio di come dire questi negozietti qui che si possono rapinare ok e qui appunto potete comprare le bottiglie di birra consiglio di comprarle dal ceo perché appunto sono gratis detto questo ragazzi prima di iniziare sapete già cosa fare mi raccomando lasciate il vostro mitico bel polli johnson in su che a me fa veramente tanto piacere mi raccomando iscrivetevi al canale per altri contenuti e detto questo possiamo subito iniziare con il video quindi prima cosa da fare ragazzi sarà entrare in gta online sessione solo ad inviti come state vedendo in questo momento dal video perché nella sono inviti il glitch funziona maggiormente altro requisito importante ragazzi avere la mira manuale questo perché per fare il primo step per baggarci appunto dovremo trovare una persona con una diversa modalità di puntamento quindi in altre parole trovare una persona che si trova in mira assistita da fare in modo tale che appunto quando andremo a ripartecipare da questa persona la seconda volta il messaggio ci cambierà e quindi vi darà un messaggio riportante quindi la modalità di puntamento che vi ho appena detto quindi mi raccomando è molto importante quindi una volta che sarete entrati in gta online avrete fatto il carico di birre e tutto quanto la prima cosa da fare sarà entrare all'interno del bunker se avete il criminal enterprise starter pack comprato non potrete fare questo glitch mentre invece se non lo avete comprato allora potrete fare questo glitch quindi se lo avete mi dispiace ragazzi chiudete il video perché non potrete fare questo glitch per duplicare massimamente una volta che vi troverete ragazzi all'interno del bunker per prima cosa io vi consiglio di aprire il menu interazione andare su veicoli e riportare tutti i veicoli personali al deposito questo perché facendo praticamente questa operazione i veicoli non saranno di intralcio ecco durante il glitch quindi vi consiglio ragazzi di fare questa cosa magari anche se avete una moto quello che è riportate ragazzi il veicolo al deposito mi raccomando è molto importante a questo punto come avete visto dovrete entrare all'interno del centro operativo mobile quindi ragazzi una volta che sarete all'interno del centro operativo mobile per prima cosa dovrete mettervi accanto allo sportello della lgr h8 in questo modo come sto facendo io nel video a questo punto dovete trovare una persona con una diversa modalità di puntamento quindi premete il tasto ps andate su le community e quindi trovate un giocatore che sta giocando a gt online con mira diversa dalla vostra quindi dovrete cercare una persona come già detto con una diversa modalità di puntamento quindi se non avete una community ragazzi usate la mia che è questa qui che state vendendo nel video quindi entrate nella community e troverete tutte persone ragazzi che giocano a gt online con mira differente da fare in modo tale che vi potranno permettere quindi di fare il glitch quindi entrate nella community andate su in esecuzione e a questo punto ragazzi trovate un partecipa alla sessione di un qualsiasi giocatore preso a caso dalla community quindi vi faccio l'esempio scegliete il primo a casissimo ok nel gioco ci sarà il recupero dettagli seguito poi da una schermata di attenzione che è questa qui che state vedendo nel video dove la schermata vi dirà voglio unirti a una diversa sessione di gt online ora quello che dovrete fare su questo messaggio sarà premere due volte velocemente il tasto ps in modo che premendo due volte velocemente il tasto ps come potete vedere vi riporterà all'interno della community quindi ora quello che dovrete fare sarà semplicemente ripartecipare dalla stessa persona quindi io ho scelto questa persona qua per farmi comparire il primo messaggio quindi quello che dovrò fare sarà ripartecipare a questa persona come state vedendo dal video a questo punto ragazzi se il messaggio mi cambia e mi uscirà un messaggio riportante la modalità di puntamento allora vuol dire che questa persona va bene e quindi la possiamo usare per appunto baggarci e quindi fare il primo step mi raccomando è molto importante quindi adesso rifiutate questo messaggio premete due volte tasto ps ripartecipate da questa persona come vedete il caricamento adesso del primo messaggio sarà praticamente istantaneo quindi accettate con x e come potete vedere il secondo messaggio di attenzione sarà quello della modalità di puntamento quindi in questo modo avremo verificato che questa persona si trova in una mira diversa molto semplicemente quindi non dovremo fare nuovamente lo step di premere due volte il tasto ps sul primo messaggio per ripartecipare e quindi farci ricomparire questo secondo messaggio di attenzione ma ci basterà semplicemente quindi come vedete partecipo prima schermata confermo e il secondo messaggio di attenzione sarà quello della modalità di puntamento quindi mi raccomando è molto importante chiaramente se non vi da ragazzi il secondo messaggio della mira trovate un'altra persona fino a quando ripartecipando la seconda volta appunto non vi darà il messaggio della mira quindi ora quello che dovrete fare sarà uno step molto importante quindi aprite il menu interazione andate su stile accessori e andate ragazzi a cambiare uno stile o un accessorio al vostro personaggio a questo punto in basso a destra ci sarà il micro salvataggio di rockstar games e quindi aspettate che questo micro salvataggio sarà scomparso ora quello che dovrete fare sarà uno step molto importante questo step ci andrà praticamente a sbloccare il timing che appunto dovremo fare quando saremo all'interno del criminal enterprise starter pack quindi quello che dovrete fare sarà premere il tasto option quindi fate comparire il menu di pausa andate su online criminal enterprise starter pack e dovrete a questo punto quindi entrare all'interno del criminal enterprise starter pack ora semplicemente andate sulla opzione chiamata acquista e quindi cliccate x per entrare all'interno di questo menu come potete vedere il gioco a questo punto vi caricherà tutti i pacchetti del criminal enterprise starter pack ecco voi dovrete aspettare praticamente che tutti questi pacchetti verranno caricati e una volta fatto ciò potrete semplicemente uscire e quindi chiudere il menu di pausa in questo modo ragazzi avremo sbloccato il timing quindi ora quello che dovremo fare sarà anzitutto fate ricaricare il messaggio in quanto come vedete insomma se fate passare un po di tempo il messaggio non verrà caricato istantaneamente quindi fate ricaricare il messaggio come si fa per far ricaricare il messaggio semplicemente partecipate dalla persona e aspettate quindi che il gioco vi darà il primo messaggio di attenzione aspettate fino a quando non vi comparirà questo messaggio di attenzione quindi accettate con x rifiutate con cerchio ora premete due volte tasto ps partecipate dalla persona e come vedete il messaggio verrà caricato istantaneamente come vedete rifiuto doppio tasto ps partecipo e rifiuto come vedete ragazzi il messaggio verrà caricato istantaneamente quindi adesso dovremo entrare all'interno ragazzi della nostra lgr h8 quindi a questo punto il motore si accenderà aspettate fino a quando il motore non si accende a questo punto dovrete fare ragazzi lo step del timing quindi prima ve lo spiego e poi ve lo faccio vedere quindi dovrete premere il menu di pausa andare su online criminal enterprise starter pack e dovrete posizionarvi sulla opzione chiamata acquista chiaramente come detto prima se avete già il criminal pack comprato non potrete fare questo glitch invece se ce l'avete potrete appunto fare questo glitch quindi dovrete andare su acquista con l'analogico in modo tale da posizionarvi appunto su acquista quindi premere x ed r2 allo stesso tempo ci sarà una schermata nera in questa schermata nera velocemente premete due volte tasto ps vi riporterà nelle community quando sarete nelle community partecipate dalla persona con la diversa modalità di puntamento quindi accettate il primo messaggio rifiutate con cerchio subito dopo aprite il menu interazione quindi adesso ve lo faccio vedere anzitutto io esco dalla macchina perché ci servirà ragazzi avere il caricamento istantaneo quindi mi raccomando se fate passare un po di tempo dovrete far ricaricare il messaggio come sto facendo io nel video questo ragazzi è un tutorial spiegato passo per passo quindi se fate passare del tempo dovrete far ricaricare il messaggio quindi partecipate dalla persona e aspettate che vi comparirà il primo messaggio di attenzione quindi accettate con x rifiutate con cerchio e una volta fatto ciò premendo due volte tasto ps come vedete il caricamento ragazzi sarà istantaneo e quindi è quello che ci servirà quindi a questo punto ragazzi fate lo step quindi entrate all'interno della rh8 aspettate che il motore si accenderà quando il motore si sarà acceso premete pausa online andate su criminal enterprise starter pack ora vi posizionate su acquista fate x ed r2 insieme schermata nera doppio tasto ps partecipate confermate con x rifiutate con cerchio e come potete vedere boom siamo riusciti ragazzi ad aprire il menu interazione quindi mi raccomando ragazzi è molto importante vi servirà avere la schermata di attenzione che verrà caricata ragazzi istantaneamente mi raccomando è molto importante quindi quando avrete il messaggio che verrà caricato istantaneamente entrate nella rh8 aspettate che il motore si accenderà quindi a questo punto fate pausa online criminal enterprise starter pack posizionatevi sulla opzione chiamata acquista quindi quando sarete su acquista dovrete fare x più r2 insieme ci sarà la schermata nera come avete visto dal video quindi in questa schermata nera premete due volte tasto ps partecipata dalla persona con la diversa modalità di appuntamento quindi accettate il primo messaggio con x rifiutate il secondo messaggio con cerchio ed infine aprite il menu interazione e a questo punto se avrete fatto ragazzi il glitch correttamente come potete vedere il gioco non vi butterà fuori dal centro operativo mobile ma vi ritroverete praticamente con il menu interazione aperto adesso possiamo passare alla seconda parte del glitch intanto ragazzi vi rimetto il replay dello step che appunto dovrete fare quindi a questo punto una volta che avrete fatto questo primo step non chiudete attenzione non chiudete il menu interazione ma quello che dovrete fare sarà a questo punto iniziare ragazzi a bere le birre quindi per bere le birre guardate bene quello che faccio io nel video quindi per prima cosa andate su inventario snack andate su pisswasser ora premete una volta x e tenetelo premuto quindi x una volta come vedete il personaggio inizierà a impugnare una birra ok e adesso tenete premuto il tasto x fino a quando il personaggio non avrà bevuto tutta la birra serviranno ragazzi esattamente 8 birre al vostro personaggio per farlo ubriacare a questo punto finita la prima birra lasciate x e ripremetelo e tenetelo premuto come potete vedere il personaggio adesso inizierà a bere un'altra birra quindi mantengo premuto x fino a quando il personaggio non finisce la birra una volta che il personaggio avrà finito di bere la birra lascio il tasto x e lo ripremo e lo mantengo premuto per fare in modo tale che come potete vedere il personaggio inizierà a bere queste birre e dovrà berle ragazzi tutte quante se non ce l'avete prima di fare il glitch come detto prima andate dal ceo dalla segretaria e andate appunto a prendere queste birre quindi a questo punto dovrete far bere 8 birre al vostro personaggio da fare in modo tale che praticamente arrivati all'ottava birra il personaggio cadrà a terra svenuto e quindi vi ritroverete praticamente all'ospedale di sandy shirts a quel punto dall'ospedale di sandy shirts semplicemente dovrete recarvi a los santos per appunto fare i prossimi step che ci permetteranno di baggarci quindi tutto quello che abbiamo fatto fino ad adesso saranno praticamente gli steps di preparazione da questo momento in poi dopo che il personaggio avrà bevuto 8 birre come vi farò vedere tra poco cadrà a terra svenuto ci sarà una schermata nera di caricamento e dopo questa schermata nera a questo punto potremo iniziare a duplicare pertanto fate bere 8 birre al vostro personaggio come potete vedere quando arriverete praticamente all'ultima il personaggio farà un paio di sorsi e una volta fatto ciò cadrà a terra svenuto ora come già detto ci sarà una piccola schermata di caricamento nera aspettate che questa schermata sarà scomparsa e una volta fatto ciò vi ritroverete all'ospedale di sandy shirts come state vedendo in questo momento dal video passata questa schermata nera ragazzi vi ritroverete praticamente al pronto soccorso ecco di sandy shirts adesso ascoltatemi bene saremo nella seconda parte del glitch e quello che dovremo fare sarà quindi iniziare a duplicare quindi una volta che avrete fatto lo step di preparazione per prepararvi al glitch quello che dovrete fare sarà aprire la mappa ok e dovrete ragazzi impostare la meta in questo esatto punto dovrete praticamente ragazzi andare nelle vicinanze del lostentos custom quindi dovrete arrivare qui e una volta che sarete qui ragazzi potrete continuare quindi per raggiungere questa posizione potrete semplicemente diventare un CEO quindi andare su il menu interazione del CEO andare su veicoli CEO e richiedere quindi che ne so un elicottero tipo questo qui da 10 mila dollari invece se avete il buzzard comprato il noleggio del buzzard sarà gratuito invece se non lo avete comprato dovrete pagare 25 mila dollari per il noleggio possiamo dire oppure potrete semplicemente insomma rubare un veicolo dalla strada e quindi raggiungere quella posizione anche se io vi consiglio chiaramente di diventare un CEO e una volta fatto ciò richiedere quindi il veicolo CEO e raggiungere questa posizione se non avete capito ragazzi la prima parte tornate indietro nel video e guardate bene un'unica premessa dovrete fare in modo che il caricamento della sessione o per meglio dire il caricamento del messaggio di attenzione dovrà essere ragazzi istantaneo mi raccomando è molto importante se fate passare del tempo purtroppo questo messaggio si annullerà e quindi dovrete nuovamente partecipare da questa persona per appunto fare ricaricare il messaggio quindi ci vediamo ragazzi e non appena abbiamo raggiunto il losentos custom così vi mostrerò i prossimi passaggi che dovrete fare per duplicare quindi ragazzi una volta che vi troverete in questa posizione come state vedendo dal video adesso quello che dovrete fare sarà ascoltarmi attentamente quindi per prima cosa dovrete aprire il menu di pausa e quando avrete aperto il menu di pausa dovrete andare nella mappa e dovrete praticamente ragazzi impostare la meta più o meno in questa posizione questo perché qui ci sarà un sottopassaggio ok ed in questo sottopassaggio dovremo inserire il centro operativo mobile da fare in modo tale che appunto il centro operativo mobile possa buggarsi e quindi ci permetterà di duplicare quindi quando sarete qui allo sento scassamo aprite la mappa mettete la meta in questo punto e una volta fatto ciò chiudete la mappa aprite il menu interazione andate su servizi centro operativo mobile e richiedete quindi il vostro centro operativo mobile se andate qui ok in questa posizione richiedendo il centro operativo mobile questo vi verrà spawnato in questa posizione come state vedendo in questo momento dal video quindi a questo punto che cosa dovrete fare dovrete semplicemente prendere il centro operativo mobile ok e dovrete quindi guidarlo fino a questa posizione questo perché dovrete mettere la meta in quanto non appena andrete a salire ecco dentro il centro operativo mobile non potrete più aprire il menu di pausa quindi prima impostate la meta ok così saprete qual è il luogo effettivo da raggiungere poi appunto richiedete il centro operativo mobile e adesso ragazzi andatelo a prendere quindi andate a prendere il centro operativo mobile all'interno dovrà trovarsi una rh8 vi ricordo perché appunto è il veicolo che useremo per duplicare dovrete quindi raggiungere quella posizione che avrete segnato prima nella mappa quindi dovrete ragazzi impostare prima la meta questo perché dal momento che entrerete nel centro operativo mobile come vedete se io premo il tasto appunto di pausa non mi fa aprire il menu di pausa pertanto dovrete impostare la meta e quindi raggiungere questo punto è molto importante quindi qui dove c'è il negozio di vestiti andate dritti ok adesso ci sarà una curva fate questa curva e proseguite dritti diciamo per l'uscita di questa curva ora praticamente la posizione dove dovrete incastrare il centro operativo mobile si troverà praticamente qui come potete vedere qui ragazzi c'è un sottopassaggio con questi due paletti di ferro ai lati e quindi potrete facilmente riconoscere questa posizione perché ci saranno questi due paletti di ferro ai lati del sottopassaggio quindi ora quello che dovrete fare sarà entrare e dovrete praticamente ragazzi impostare o meglio dovrete parcheggiare il centro operativo mobile da fare in modo tale che questa cosa che esce dal soffitto come state vedendo dovrà praticamente trovarsi allo spigolo ecco come potete vedere in questo momento dal video se riesco come vedete vedete quella quella cosa ragazzi che esce dal soffitto ecco questa è la posizione perfetta per incastrare il centro operativo mobile dovrete fare in modo tale che questa cosa adesso vi faccio vedere che questa cosa qui ragazzi sia praticamente qui quindi dovrà praticamente toccare o meglio dovrà essere ecco nello spigolo di questa parte quindi questa cosa che esce dal soffitto in parallelo con questa cosa di ferro che diciamo avvolge ecco il centro operativo mobile chiamamolo telaio ok quindi questa cosa ok dovrà essere in parallelo con il telaio come state vedendo quindi questa ragazzi è la posizione perfetta per duplicare quindi ora ascoltatemi bene una volta che avete parcheggiato il centro operativo mobile in questa posizione semplicemente ragazzi andate in strada alzate il telefono andate nei contatti e quindi chiamate il meccanico e a questo punto dovrete farvi richiedere un veicolo che vorrete duplicare vi ricordo ragazzi di usare solamente i veicoli di Venice o di Arena War perché sono quelli che fanno guadagnare di più i veicoli come per esempio la Italy RSX la Fiat 500 Deluxo e tutti i veicoli di questo tipo possono essere duplicati solo una volta e quindi vendere l'originale e tenere la copia in quanto la copia avrà praticamente il valore delle modifiche quindi sarà praticamente inutile ok in quanto andrete a sprecare solo una vendita del vostro account quindi chiamate ragazzi i veicoli di Venice o di Arena War perché sono quelli che fanno guadagnare di più punto quindi a questo punto dovrete semplicemente ragazzi entrare all'interno del veicolo e ora dovrete concludere il glitch quindi per concludere il glitch è veramente molto semplice posizionate più o meno la macchina in questo modo quindi praticamente a metà tra appunto le entrate del sottopassaggio e il marciapiede come state vedendo quindi una volta aver parcheggiato la macchina in questo punto dovrete salire all'interno della motrice del centro operativo mobile quando sarete nella motrice dovrete tenere premuto il tasto freccia destra per praticamente sganciare il rimorchio del centro operativo mobile quindi a questo punto il rimorchio inizierà a fare un giochetto strano tipo inizierà a saltare a tremare ecco a fare un traballo strano ok chiamiamolo così dovrete aspettare fino a quando il centro operativo mobile non sarà fermo alzato quindi voi staccate la motrice aspettate che il centro operativo mobile si ferma quindi finisce di fare i salti finisce di fare il traballo ok una volta che si sarà fermato a questo punto potrete entrare all'interno quindi del veicolo e spammare quindi per chi non sapesse che cosa significa spammare significa semplicemente premere tante volte freccia destra e x quindi freccia destra per lasciare il veicolo all'interno del centro operativo mobile e tasto x quindi per confermare di voler scambiare il veicolo appunto nel deposito adesso vi faccio vedere quindi salite all'interno della motrice tenete premuto il tasto freccia destra per staccare il rimorchio come state vedendo a questo punto il rimorchio inizierà a fare tutto questo giochetto strano inizierà a traballare fare dei salti e fare cose ok quindi molto velocemente ecco come vedete si è fermato quindi appena si ferma subito premete freccia destra e tasto x se vi fa questo giochetto qui che appunto vi da il la cosa di premere freccia destra però confermato il messaggio non vi fa accettare ecco se vi succede questo dovrete aspettare che il centro operativo mobile verrà praticamente rimesso in strada come state vedendo in questo momento dal video questo perché se vi compare più volte l'avviso appunto di premere freccia destra e del deposito veicolo personale pieno il gioco si buggerà e quindi in questo punto ci sarà una schermata nera di caricamento infinita e quindi non avrete fatto il glitch quindi dovrete praticamente ragazzi riavviare tutto il glitch da capo quindi è molto importante quindi a questo punto il centro operativo mobile vi verrà spawnato come avete visto in strada ok adesso prendete nuovamente il rimorchio quindi riattaccatelo al rimorchio e posizionatelo come prima come avete visto dal video quindi praticamente ragazzi ecco come vedete dovrà praticamente trovarsi questa cosa che esce dal soffitto qui attaccata al telaio del centro operativo lo so ragazzi può sembrare complicato ma è molto molto semplice ora dovrete parcheggiare il veicolo più o meno in questa posizione ok quindi ritornare all'interno del centro operativo mobile staccare la motrice appena il rimorchio si ferma e lo vedete appunto fermo alzato spammate tante volte freccia destra e tasto x quindi premete tante volte freccia destra e tasto x per confermare di voler fare uno scambio e quindi a questo punto effettuare la prima duplicazione quindi ora ritornate nella motrice tenete premuto freccia destra il rimorchio a questo punto inizierà a traballare ok aspettate quindi che si ferma come state vedendo dal video appena si ferma subito ragazzi premete tasto freccia destra e tasto x se vi rifà di nuovo ecco lo stesso errore sostanzialmente il rimorchio del centro operativo verrà riportato nella strada quindi a questo punto vi basterà semplicemente rieffettuare l'operazione mi raccomando quindi ragazzi è molto importante che il centro operativo mobile deve fermarsi quindi appena finisce di fare i salti e tutto il resto insomma dovrete a quel punto spammare freccia destra e tasto x quindi confermate ecco lo scambio solo quando il centro operativo mobile si ferma mi raccomando ragazzi è molto importante se non ci riuscite vi basterà come sarei venuto dal video a questo punto insomma ripartire da questo step quindi parcheggiate il centro operativo mobile da fare in modo tale che questa cosa che esce dal soffitto sarà praticamente no vabbè non ci credo non ci credo no 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 mannaggia il gesù crissi raga eh mi è praticamente saltata la connessione pertanto adesso ritorno a quel punto e vi faccio vedere come dovete fare la duplicazione comunque l'ho detto ecco dovrete staccare il rimorchio ok appena il rimorchio si ferma voi entrate nella macchina e spammate quindi tante volte freccia destra e tasto x se spammando una volta tasto x non vi conferma il messaggio premete più volte il tasto x a quel punto ci sarà una schermata nera di caricamento che durerà poco ok quindi voi aspettate questa schermata di caricamento e una volta fatto ciò il gioco vi farà spawnare vicino al centro operativo mobile con il veicolo duplicato infatti la targa ragazzi andrà a cambiare quindi raga rifaccio il glitch e appunto vi faccio vedere in modo tale che poi posso mostrarvi come si fa per continuare a duplicare quindi a fra poco ok ragazzi eccoci qua finalmente tornati dopo aver sistemato la connessione comunque siamo in questo punto ok quindi adesso dovrete salire nella motrice staccare il rimorchio tenendo premuto freccia destra aspettate che questo rimorchio si ferma ok quindi dovete aspettare che si ferma quindi fategli fare tutti questi salti eccetera come vedete ok aspettate che si ferma appena si ferma subito spammate tante volte freccia destra e tasto x mi raccomando come ho detto prima quindi dovrete aspettare che si ferma farà dei saltini delle cose appena ragazzi vedete che si ferma alzato come avete visto dal video dovrete spammare tante volte freccia destra e tasto x quindi a questo punto ci sarà una piccola schermata di caricamento e come potete vedere boom la targa ragazzi sarà cambiata quindi significa che questo è un veicolo duplicato ora semplicemente quello che dovrete fare sarà andare al vostro ufficio CEO se non vi fa aprire la mappa per mettere la meta semplicemente mettete la meta tramite il menu interazione appunto e a questo punto dovrete ritornare quindi al vostro ufficio e quando sarete nel vostro ufficio dovrete semplicemente scegliere il garage dove non avete veicoli quindi più posti vuoti avete e più duplicazioni potrete fare se non sapete come avere posti vuoti vi lascerò un video nelle schede come anche in descrizione appunto così potrete vederlo quindi dovrete ritornare al vostro CEO e dovrete quindi scegliere il piano dove appunto avete posti vuoti nel mio caso sarà il garage dell'ufficio al primo livello quindi ora attendete l'animazione e quando sarete appunto all'interno del garage dovrete ritornare all'interno del veicolo premere freccia destra a questo punto il gioco vi porterà all'interno dell'officina e dovrete semplicemente applicare una modifica quindi cambiando la targa o qualsiasi altra cosa quindi come vedete siamo all'interno dell'ufficio CEO come vedete ragazzi tanti posti vuoti quante duplicazioni volete fare ora quindi dovrete semplicemente salvare questa duplicazione quindi premete freccia destra il gioco vi porterà all'interno dell'officina quindi una volta che sarete nell'officina dovrete applicare una modifica va bene anche i freni oppure la targa io consiglio ragazzi di cambiare la targa perché è quella che appunto costa di meno quindi semplicemente applicate una modifica e a questo punto premete due volte il tasto cerchio o comunque due volte il tasto B se state facendo questo glitch su Xbox One quindi cerchio cerchio e come vedete vi ritroverete ragazzi in questo menu di uscita ora quello che dovrete fare su questo menu di uscita sarà semplicemente cliccare la prima opzione e una volta fatto ciò quindi vi porterà all'interno del garage dell'ufficio ora quando sarete all'interno del garage dell'ufficio potrete continuare a duplicare quindi per continuare a duplicare è veramente molto semplice dovrete per prima cosa andare su internet quindi alzate il telefono andate su internet e una volta fatto ciò andate sul sito di leggendari motorsport quindi entrate cliccate qui una volta su ordina per prezzo e come vedete il primo acquisto sarà la RH8 quindi entrate scegliete un colore e ordinatela mettendola all'interno del vostro centro operativo mobile a questo punto ragazzi chiudete internet accelerate per uscire fuori dal garage CEO e una volta fatto ciò dovrete a questo punto ritornare al luogo della duplicazione quindi come vedete lo potrete facilmente riconoscere perché appunto ci sarà il rimorchio del centro operativo mobile quindi ora per continuare a duplicare dovrete fare lo stesso passaggio che vi ho appena fatto vedere quindi ritornate dove c'è il centro operativo mobile quindi a questo punto prendete la motrice la riattaccate al rimorchio e una volta fatto ciò dovrete riposizionare il centro operativo con tutto il rimorchio nella posizione come avete visto prima dal video quindi dovrete fare in modo tale che diciamo quella cosa che esce dal soffitto dovrà praticamente essere sullo spigolo del telaio del rimorchio del centro operativo mobile quindi adesso ragazzi vi faccio vedere come vedete voglio fare un'altra duplicazione quindi per fare un'altra duplicazione che cosa dovrò fare? per prima cosa dovrò salire all'interno della motrice del centro operativo mobile adesso dovrò semplicemente riattaccare il rimorchio al centro operativo mobile come state vedendo in questo momento dal video se ci riesco allora ok e adesso quello che dovrete fare sarà nuovamente riposizionare il centro operativo mobile in obliquo quindi semplicemente fate una retromarcia come questa ok e qui ragazzi andate a posizionare appunto il rimorchio in questo modo e quindi qui dovrete appunto posizionare come vedete il centro operativo mobile in obliquo quindi dovrete entrare in diagonale ok in questo sottopassaggio e dovrete quindi ragazzi incastrare questa cosa che esce dal soffitto con il telaio qui del centro operativo mobile mi raccomando è molto importante a questo punto ragazzi saremo pronti a fare un'altra duplicazione quindi come prima dovrete prendere il veicolo personale quindi lo mettete più o meno qui in questa posizione ok quindi adesso ritornate all'interno della motrice staccate il rimorchio tramite la freccia destra a questo punto il rimorchio inizierà a fare quel giochetto strano dove salta traballa e fa le cose voi dovrete aspettare che questo rimorchio praticamente si andrà a fermare quando il rimorchio sarà fermo allora a quel punto potrete spammare e quindi premere tante volte freccia destra e tasto X per effettuare ragazzi un'altra duplicazione quindi salite all'interno della motrice come sto facendo io ora tenete premuto il tasto freccia destra come vedete il rimorchio inizierà a traballare aspettate che il rimorchio ragazzi si vada a fermare come vedete farà questi saltini che state vedendo nel video quindi aspettate che il rimorchio finisca di fare questi saltini come vedete quindi aspettate 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 ok come vedete appena si ferma ragazzi subito premete freccia destra e tante volte il tasto X ci sarà la schermata del deposito veicolo personale pieno voi confermate a questo punto ci sarà una mini schermata di caricamento nera ok e una volta fatto ciò come potete vedere boom avrete ragazzi effettuato un'altra duplicazione quindi come avete visto non ci sarà bisogno di rimandare al deposito il centro operativo mobile ma vi basterà semplicemente ripetere da questo step vi ricordo ragazzi di posizionare il centro operativo mobile in modo corretto se invece vi fa come prima la schermata che magari voi premete freccia destra vi da il messaggio di attenzione e poi il messaggio di attenzione si toglie da solo aspettate che il centro operativo mobile venga posizionato sulla strada e a quel punto prendete la motrice riparcheggiatelo e quindi riprovate a fare questo step come avete visto abbiamo fatto quindi ragazzi un'altra duplicazione ora per continuare a duplicare ci basterà ripetere da questo step quindi facciamo la duplicazione una volta fatto ciò rientriamo al nostro ufficio CEO quando saremo al nostro ufficio CEO semplicemente facciamo una modifica alla macchina quindi torniamo al garage dell'ufficio poi andiamo a comprare una nuova LG RH8 e la mettete all'interno del centro operativo mobile come vedete adesso dobbiamo salvare questa duplicazione quindi salite all'interno della macchina premete freccia destra vi porterà all'interno dell'officina e quindi ragazzi applicate una modifica come la targa per esempio perché è quella che costa di meno quindi applicate la modifica ok in questo modo poi fate cerchio cerchio e fate esci e vai al livello del garage quindi la prima opzione a questo punto sarete nuovamente nel garage quando sarete nel garage ora andate semplicemente ragazzi ad ordinare un'altra LG RH8 quindi questo step di ordinare la RH8 ci serve per ripartire con un'altra duplicazione quindi la ordinate la mettete all'interno del centro operativo mobile ora accelerate per uscire fuori dal vostro garage CEO quindi ritornate nuovamente al luogo della duplicazione lo potrete riconoscere come detto prima perché ci sarà appunto il rimorchio del centro operativo quindi mettete la meta raggiungete il luogo a quel punto riprendete la motrice riattaccatela al rimorchio quindi rimettete il rimorchio in posizione diagonale chiamiamolo così da fare in modo tale che quella cosa che esce dal soffitto sarà praticamente incastrato sotto il telaio del rimorchio del centro operativo mobile quindi a quel punto ragazzi riposizionate il veicolo poi ritornate all'interno del centro operativo mobile staccate la motrice a questo punto il centro operativo mobile inizierà a traballare fare cose ok voi aspettate che si ferma semplicemente quando si sarà fermato potrete a quel punto insomma fare un'altra duplicazione quindi mi raccomando è importante quindi a quel punto una volta che avrete staccato il rimorchio il rimorchio si sarà fermato spammate quindi freccia destra e tasto X per quindi confermare di voler effettuare un'altra sostituzione quindi a quel punto ragazzi avrete effettuato un'altra duplicazione quindi potrete a questo punto ripartire da questo step ok per fare tutte le duplicazioni che volete riparcheggiate adesso il centro operativo mobile in questa posizione quindi riprendete il veicolo lo parcheggiate più o meno in questa posizione quindi rientrate all'interno del centro operativo mobile staccate la motrice aspettate che il rimorchio si ferma quando si sarà fermato a quel punto potrete sfammare freccia destra e tasto X ci sarà un piccolo caricamento aspettate questo piccolo caricamento e una volta fatto ciò appunto il gioco vi farà spawnare con un'altra duplicazione e a quel punto quindi ragazzi potrete continuare da questo step per fare tutte le duplicazioni che volete importante ragazzi vi ricordo di aspettare che il centro operativo mobile si ferma quindi come vedete fa questo giochetto traballa fa i salti aspettate che finirà di fare tutto quanto ok quindi aspettate che si ferma ci vorrà un po' ragazzi voi aspettate appena si ferma alzato come state vedendo premete freccia destra e spammate tante volte il tasto X quindi a questo punto ci sarà come stavo dicendo prima una schermata nera di caricamento infinita scusate una schermata nera di caricamento e una volta fatto ciò dopo qualche secondo boom il gioco come vedete vi farà spawnare con un'altra duplicazione infatti la targa ragazzi sarà cambiata a questo punto ritornate nel vostro ufficio CEO scegliete il piano dove avete dei posti vuoti ok quindi scelto il piano aspettate l'animazione una volta fatto ciò entrate all'interno dell'officina personale premendo freccia destra da dentro il veicolo quindi ragazzi applicate una modifica e ritornate al vostro garage dell'ufficio quando sarete nel garage a questo punto ordinate un'altra LG RH8 e quindi vi basterà continuare da questo step per appunto fare tutte le duplicazioni che volete in questo modo ragazzi potete fare appunto duplicazione massiva come avete visto lo so il glitch ragazzi può sembrare lungo fidatevi ma perché più che altro ragazzi spiegarlo è lungo ok se vi ci mettete a fare pratica anche in 10 minuti potrete appunto fare il primo step e appunto poi potrete iniziare a fare una copia circa ogni 1-2 minuti che è veramente ragazzi molto molto buono quindi mi raccomando ragazzi approfittatene prima che sia troppo tardi fatevi i vostri soldi tanto come avete visto il metodo è veramente molto molto semplice quindi niente ragazzi io finisco questo video qui spero che questo video vi sia piaciuto spero che vi sia stato di vostro aiuto se così è stato mi raccomando ragazzi lasciate il vostro mitico bell poli chonsons in su a questo video che a me fa veramente tanto piacere mi raccomando iscrivetevi al canale per altri contenuti io spero ragazzi che abbiate apprezzato vi ricordo sempre di entrare nel mio gruppo e canale telegram di cui troverete il link in descrizione come anche di seguirmi su instagram il link lo troverete sempre nella descrizione vi ricordo sempre che se avete bisogno di account modati account glicciati oppure servizi di aggiunta soldi e deluxo nel vostro account per ps4 al prezzo migliore di tutta italia link per contattarmi ad uno dei contatti che troverete a descrizione di questo video e niente io vi saluto da Crix è tutto noi ragazzi ci si becca come al solito con un prossimo video prossima live o un prossimo glitch bello ciao 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 ciao